Barre Faeli e Abi e Zra festeggiano due anni di matrimonio, quasi, in quattro Sono già passati due anni dal matrimonio per Barre Faeli e Abi e Zai La modella israeliana ha deciso di condividere con tutti i suoi fan un romanticissimo video dei loro momenti più belli Ha tanta felicità, poi, se ne aggiunge un'altra, quella della cicogna che sta per arrivare per la seconda volta, e nel giro di pochissimo tempo Barre Faeli e Abi e Zai, buon secondo anniversario! Il periodo rosa tra Barre Faeli e Abi e Zai è meraviglioso e non conosce limiti Anzi, ai primi momenti di gioia questa coppia non fa altro che aggiungere felicità su felicità La bellissima modella israeliana ha condiviso sul suo profilo Instagram un bellissimo video che racconta questa meravigliosa storia d'amore che l'allega ad Adi dal 2013 Due anni fa, dopo un breve fidanzamento, i piccioncini si sono sposati e oggi celebrano così il loro secondo anniversario di matrimonio, tra ricordi emozionanti che strappano sorrisi e lacrime ai loro fan, sono una coppia sempre più innamorata Nella breve clip, vediamo i due futuri sposi che percorrono il cammino verso l'altare, dove hanno celebrato con rito ebraico le loro nozze Da cosa lo capiamo? Dalla candida kippa indossata dallo sposo e da un frame in cui vediamo il classico momento in cui i due sposi, insieme, rompono un bicchiere avvolto in un panno di stoffa I due sono meravigliosi nel video e la loro gioia è assolutamente tangibile mentre sorridono verso la telecamera e ballano romanticamente uno stretto all'altra Dopo poco tempo dalla loro unione, poi, è arrivata la prima splendida cicogna della coppia, una bambina di nome Liv, vita, a consolidare ancora di più il loro amore Buon primo compleanno Liv, recita il post dell'11 di agosto E ora? La bellissima e impegnatissima modella Esho Girle è pronta a fare bis, a giudicare dal suo secondo pancione, manca davvero poco al lieto evento, come ricorda anche nel messaggio che accompagna il video del matrimonio Due anni di matrimonio e siamo quasi in quattro comincia a scrivere Bar e chiude con una delle frasi più romantiche che esistono al mondo, e ma tu sarai per sempre la mia metà. Ti amo ogni giorno di più Bar e Faeli si rilassa al tramonto Alla gioia incommensurabile degli ultimi due anni si aggiungono momenti di relax e benessere che giustamente Bar e Faeli si deve concedere, il suo pancione è meraviglioso e lo è ancora di più mentre si staglia su un bellissimo tramonto in riva al mare Bar, a dire la verità, non si ferma mai un attimo, con il suo bellissimo volto angelico, quando ancora il pancione non era enorme, è salita sul palco di X Factor Israele per condurre il talent show musicale più seguito al mondo Tanta energia per lei, che sembra avere ancora più carica in dolce attesa. Ora, però, manca davvero poco al grande giorno e c'è spazio solo per tanta tenerezza e con la sua dolce metà e la piccola Liv, presto sorella maggiore. Ciao